Sei un dipendente del settore metalmeccanico e ti hanno chiesto dove destinare il TFR? Ti capita di confrontarti con i tuoi colleghi e c'è chi ha lasciato il TFR in azienda e chi è invece destinato di aderire al fondo pensione Cometa. Non sai cosa fare e che decisioni prendere? In questo video cercheremo di capire quali sono le caratteristiche principali di questo fondo pensione per valutare se conviene versare anche il trattamento di fine rapporto o se è meglio valutare ed impiegare diversamente questo tesoretto, il TFR, che maturi durante gli anni di lavoro. Alla fine quando andrai in pensione sarà un asset molto importante per garantirti una vecchiaia serena cosa di cui molti italiani iniziano ad essere preoccupati. Nel corso dell'ultimo periodo il tema previdenza integrativa e fondi pensione si sta facendo sempre più attuale soprattutto perché gli italiani iniziano ad essere consapevoli che il futuro previdenziale non sarà rosio come per i propri genitori o nonni. Per questo motivo molti lavoratori, soprattutto dipendenti, che stanno guardando questo video si domandano se convenga destinare al proprio fondo pensione di categoria il TFR ed eventuali contributi volontari. Allo stesso tempo banche e compagnie assicurative spingono a far sottoscrivere i loro fondi pensione e il lavoratore non sa tra tutti questi prodotti quale scegliere. E quindi cosa fare? Sono Marco Cini, consulente finanziario indipendente e all'interno di Soldi Expert SCF mi occupo anche delle analisi previdenziali. Ci tengo a specificare che come società di consulenza finanziaria indipendente iscritta all'albo Soldi Expert non vende né colloca fondi pensione né guadagna commissione dai fondi pensione. Ma il nostro obiettivo è di aiutare le persone a prendere le decisioni corrette per gestire al meglio il loro futuro finanziario e anche previdenziale. Ma partiamo subito dal vedere alcune caratteristiche principali del fondo pensione Cometa. Con 25 anni di esperienza e 440.000 aderenti, Cometa è il più grande fondo pensionistico in Italia. Se consideriamo che gli addetti del settore metalmeccanico sono circa 1.600.000, un lavoratore su 4 di questo settore ha aderito e versa contributi all'interno del fondo pensione Cometa. È tanto? È poco? Se consideriamo altre categorie lavorative, come ad esempio i lavoratori del settore pubblico, la media dei lavoratori che ha aderito al fondo pensione Cometa è molto più alta. Però rispetto al totale dei lavoratori rimane comunque una percentuale abbastanza contenuta, solo il 25%. Se l'ha sottoscritto solo un metalmeccanico su 4, cosa avranno fatto gli altri dipendenti del settore? Il restante 75% dei lavoratori può aver deciso di lasciare il proprio TFR in azienda oppure di versarlo all'interno di un fondo pensione aperto o un PIP, un piano individuale pensionistico, proposto da una compagna assicurativa. In questo caso ti consiglio di analizzare nel dettaglio il fondo pensione che ti hanno proposto, perché potrebbe essere una soluzione costosa come rilevato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione sul suo sito. I piani individuali pensionistici sono quelli che registrano i costi mediamente più alti e un costo elevato può incidere sulla tua pensione futura e può eroderla. E se vuoi scoprirlo puoi richiedere una consulenza o una tantum per capire se stai pagando qualcosa che non vale quello che promette. Ma torniamo al nostro fondo pensione Cometa. Spesso le persone sono scettiche nel destinare il TFR nel proprio fondo pensione di categoria, perché appunto i loro colleghi non hanno deciso di farlo. Sanno qualcosa che tu non sai o sono loro che dovrebbero sapere qualcosa in più, magari chiedendo il consiglio a un consulente finanziario non in conflitto di interessi? Nella nostra esperienza di consulenti indipendenti, che quindi non hanno nessun interesse a farti sottoscrivere nessun tipo di strumento finanziario, un elemento molto importante da considerare quando devi valutare come destinare il TFR, è il contributo del datore di lavoro. Se decidi di versare il tuo TFR nel fondo pensione Cometa, a fronte di un versamento volontario dell'1,2% della retribuzione lorda, oltre al TFR, il datore di lavoro è obbligato a versare nelle casse del fondo pensione Cometa un ulteriore 2% di contributi. C'è inoltre un piccolo premio in più per i giovani. Per i neoassunti fino ai 35 anni, il contributo del datore di lavoro sale fino al 2,2%. A meno di accordi particolari tra il tuo datore di lavoro e un fondo pensione privato, il contributo datoriale extra può essere versato solo in un fondo di categoria, e in questo caso il fondo pensione Cometa, per i lavoratori del settore metalmeccanico. Ma magari tu hai già un fondo pensione su cui stai versando il tuo TFR, e non sai se hai fatto la scelta giusta. È meglio versare il TFR nel fondo pensione Cometa? Quali elementi devi prendere in considerazione per capire se hai scelto il meglio per te? Oltre al vantaggio del contributo datoriale extra, che viene offerto a chi versa il proprio TFR sul fondo di categoria, qualche settimana fa abbiamo pubblicato un video specifico sui vantaggi fiscali di versare il TFR in un fondo pensione. Grazie ad un esempio pratico abbiamo visto che per un lavoratore dipendente ci potrebbe essere una differenza di diverse migliaia di euro tra la destinazione del TFR in azienda o all'interno di un fondo pensione. Quando hai tempo ti consiglio di andare a vedere questo video, o anche gli altri video che abbiamo pubblicato sul tema della previdenza complementare. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al nostro canale YouTube. Ci sono altri elementi che devi valutare per ottimizzare la tua pensione futura? I costi delle diverse soluzioni presenti sul mercato sono una caratteristica molto importante da analizzare quando si vuole ottenere il meglio per incrementare la propria pensione futura. I fondi pensione di categoria, come il fondo pensione Cometa, hanno costi di gestione molto diversi rispetto ad altri fondi pensione aperti o PIP, che sono i prodotti generalmente consigliati in banca o presso le agenzie di assicurazioni. È importante poi anche tenere in considerazione alcuni vincoli che ci sono sui fondi pensione. In particolare, quando un lavoratore richiede il riscatto del fondo pensione, non potrà riscattare tutto il montante sotto forma di capitale, ma se questo ha superato un determinato limite, al massimo il 50% del montante finale sarà riscattabile sotto forma di capitale e il restante 50% è obbligatorio richiederlo sotto forma di rendita, quindi un assegno mensile. Confrontandoci come consulenti indipendenti, collaboratori, clienti e persone interessate a capire quale decisione prendere per il proprio futuro previdenziale, ci teniamo a sottolineare che questo vincolo sulla rendita del fondo pensione deve essere ben compreso nella sua portata e nei suoi effetti. Purtroppo sul mondo finanziario c'è sempre un alone di mistero, dovuto spesso alle istituzioni finanziarie, che non hanno mai fatto una vera educazione finanziaria. E per questo si può pensare che investire i propri risparmi o il TFR in un fondo pensione sia come giocare alla roulette al casino. In alcuni casi lasciare il TFR in azienda può essere rischioso e bisogna valutare caso per caso. Come bisogna valutare caso per caso a quale comparto di investimento aderire tra quelli offerti? Poniamo infatti che tu abbia deciso di destinare il TFR al tuo fondo di categoria, il Cometa. Quale comparto di investimento dovresti scegliere fra quelli disponibili? Osservando questo grafico possiamo vedere che la maggior parte degli aderenti al fondo pensione Cometa sceglie il comparto bilanciato, chiamato reddito. Però Cometa ha 5 comparti di investimento. Perché tutti scegliono lo stesso? È anche la scelta migliore per te? Ci sono dei parametri per valutare quale comparto dovresti scegliere in base alla tua età, alla propensione al rischio e all'orizzonte temporale. Avrai capito quanto sia importante analizzare diverse variabili per prendere la scelta corretta per il tuo futuro finanziario e previdenziali. Quindi in conclusione non possiamo semplicemente dire che sottoscrivere il fondo pensione Cometa sia la scelta migliore per tutti, ma è fondamentale analizzare nel dettaglio ogni situazione. Prima di prendere qualsiasi tipo di decisione finanziaria, sia rispetto ai propri risparmi e investimenti, sia per quanto riguarda la previdenza integrativa, è importante analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari. Se hai domande su questo argomento o hai intenzione di analizzare meglio la tua situazione finanziaria e previdenziale, puoi scriverci una mail a info-lasoldiexpert.com o visitare il nostro sito che trovi in descrizione. A presto! Prova un'esperienza differente e conoscerai la vera consulenza finanziaria indipendente e il lavoro di soldi expert SCF.